C'era tanto una buona ragazza. E amava la montagna? Tanto, più di tutto. Deborah viveva e lavorava con i genitori nel panificio di Valle San Floriano, gestitore alla famiglia, tanta la commozione nella piccola frazione di Marostica dove le poche anime che ci abitano si conoscono tutte. E la notizia della morte della giovane alpinista innamorata della montagna si è sparsa in un batter d'occhi. C'era proprio entusiasta delle montagne, mi lasciava tutto per quello. Lascia un grande vuoto in questo paese? Sì, tanto. Così come forte il dolore a Cusinati di Rosà, dove abitava Davide, l'amico e compagno di Cordata di Deborah. Davide lavorava al caseificio San Rocco di Tezze, ma aveva un grande sogno sin da quando era piccolo. Di entrare nelle guardie forestali, quello era il suo sogno da sempre, da bambino. Aveva fatto il corso, voleva entrare, quello era il suo sogno. Stanotte non ho mai dormito da dispiacere perché ho figli anch'io e penso di sapere cosa che si possa provare. Davide anche lei lo conosceva bene? Veniva qua a prendere il pane, poverino, all'età di mia figlia quasi. Era un ragazzo che collaborava in parrocchia, era un ragazzo serio, bravo ragazzo perché si dice sempre in queste occasioni che sono bravi ragazzi, però questa volta era un bravo ragazzo. Cosevamo tutti qua in parrocchia perché collaborava. Sapevate di questo suo amore per la montagna? Sì, da sempre, anche il suo papà è un amante della montagna. Lui era da tempo che coltivava questa passione, era una passione per lui. Era anche un esperto, uno che lo faceva spesso, un ragazzo serio, non faceva le cose così, le faceva seriamente. Eppure qualcosa è andato storto e l'ammaliante e fascinosa montagna si è trasformata in perfida assassina per Davide e Deborah. Grazie a tutti.